Un piccolo assaggio. La terapia ha avuto un grande brano di aiuto di quasi 40 o 50 psicologici che hanno partecipato alle investigazioni. E se la gente si occupa, si coinvolge in questa oidoterapia, può ottenere qualcosa di molto valevole. Loro ricevono indipendenza nel loro lavoro. Perché? Perché la oidoterapia non è stata scoperta prima. Quindi non ci interessa che venga dato un certificato universitario. Perché le università non sanno un tubo rispetto a queste cose. Al contrario, noi possiamo dare corsi nelle università. E la terapia oida è benvenuta. Si sta apriendo porte ovunque. Si sta apriendo porte in prigioni, in old people home, in young people. E' molto vasta. Si sta facendo strada nelle prigioni, a casa delle persone anziane, eccetera. Fate la World Peace Therapy, a casa delle persone anziane, eccetera. Allora, in questo argomento, la feducazione e la oidoterapia ha ricevuto un riconoscimento dall'UNESCO. E' stato accettato come fondamento per un sistema educativo. E' stato messo, è stato incluso nel programma UNESCO, Innoviamo. Quindi la feducazione è un utensile molto interessante che può essere utilizzato anche nelle scuole con il metodo Montessori, con il metodo Waldorf, eccetera. E' stato lanciato anche un progetto che si chiama OIDA, terapia della pace mondiale. Questa cosa, questa sezione è in inglese. Molto rapidamente sarà disponibile anche in spagnolo. OIDA, terapia della pace mondiale ha un approccio molto interessante per dire come possiamo avere pazza interno o esterno se non abbiamo trovato il significato di pazza nella nostra vita. Allora, qui si tratta di stabilire come facciamo ad avere pace interiore ed esteriore se non abbiamo capito qual è il significato di avere la pace nella nostra vita. Ma c'è anche l'aff mindedness di applicazione sociale. Le sceglie, le sceglie, le sceglie, le sceglie, le sceglie, l'agricoltura, il sceglierismi, il giustizia e la compagnie. Però viene data un'applicazione anche su argomenti di interesse comune, il cibo, la proprietà, l'acqua, la famiglia, le uccisioni, l'agricoltura, la compassione, la giustizia e il settarismo. E abbiamo corsi, per esempio, noi siamo tutti la stessa famiglia, che si chiama il corso di trasparenza mondiale dell'OIDA terapia. Poi c'è l'OIDA pace mondiale, la terapia OIDA per la pace mondiale, poi per coloro che sono quelli che mantengono la pace, il corso di libertà, il corso del tu non sei un bruttone, non sei brutto. E ci sono altri corsi che non sono stati ancora messi in quella lista. Tutti i corsi che voi vedete saranno supervisionati nell'Università dell'Antica Saggezza. Quindi sono tutti argomenti che lasciano aperti un sacco di differenti applicazioni. Ok, vai un po' giù, vai ancora giù. Diventa un attivista per la pace mondiale. Questa è un'altra cosa che viene con l'OIDA pace mondiale. Abbiamo invitato le persone a prendere l'azione. Questo si collegherà con il prossimo progetto che si chiama l'OIDA pace mondiale. L'OIDA pace mondiale invita le persone a prendere l'OIDA pace mondiale. Quindi questa cosa è collegata con l'OIDA pace mondiale che si chiama l'OIDA pace mondiale. Quindi l'OIDA pace mondiale invita la gente, gli attivisti a frequentare questo corso sull'attivismo pacifista. Ritorniamo all'OIDA terapia. Abbiamo anche musica per l'OIDA terapia. Abbiamo anche una collezione di cose speciali. Abbiamo una collezione di piccole cose. Cosa che ha a che vedere con la mistica e i miracoli della coscienza. Il piano e la farfalla. No commentare necessario. Non necessita di commento. Questa è una devota che si chiama Venu Gita. Lei è una compositrice. E quando siamo andati a Miami a registrare nel suo studio di registrazione. E ha detto al Guru Maharaj ti faccio ascoltare una composizione che ho appena fatto. e appena cominciato a suonare. Questa farfalla è atterrata sulle sue dita. E è stata sulle dita per tutto l'esecuzione. E' qualcosa di funny in addition. E' buffo. E' che questa devota ha il soprannome. Nelle sue corsi di pianoforte. Nelle sue corsi di pianoforte. E la chiamano dita da farfalla. E' bella. Ah, 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 ah. lo potete rivedere più tardi. In altri casi, oidoterapia è creare e generare positivismo. Quindi, oidoterapia si tratta di creare e generare positivismo. Tu parli di Dio sempre, ma non è necessario che tu menzioni sempre il nome. Questa cosa è un modo di presentarsi naturale. Quindi dovete andare a vedere nel sito internet. Ci sono qui molte altre cose. E ne arriveranno sempre di più. In inglese ci sarà anche la versione spagnola. Ok, and go down further. Go to the top of the page. Vai in cima alla pagina. No, not the other direction. So, you can go here a little bit to the directory. Quindi ritorniamo all'indice. Quindi voi potete avere un'idea. Quindi voi potete avere un'idea. Qui ci sono tutti i progetti che l'Oida Therapy è già lavorato. Qui abbiamo i siti di Oida Therapy. Qui ci sono i differenti progetti. Il sito web dell'Oida Therapy. Qui ci sono i link della meditazione Oida che l'avete già visto. C'è l'educazione alla fede che l'avete già visto. Oida Therapy, virtual courses on the internet. Qui ci sono corsi virtuali su internet di Oida Therapy. Those you can catch from the university. Have a click on this. Per esempio, proviamo a vedere questo riguardo all'università. Allora, through this department we are going to direct all the courses. Because this will bring people to a platform where the university of colonialism has no more say. Praticamente si tratta di portare le persone ad un livello nel quale l'università del colonialismo non può più rompere le scatole. Scusate. So, therefore, in the university of ancient wisdom, we are connecting the ancient wisdom of the Andes with the Himalayas, with the Govardhan Hill, the sacred mountains of all these cultures, sacred plants. E quindi c'è una connessione tra le Andes, l'Himalaya, la Govardhana, vedo Sierra Nevada, quindi tutto il mondo, tutte le culture. E quindi ci sono molti corsi interessantissimi. E ci stiamo lavorando molto duramente. Per adesso abbiamo solamente cinque corsi. Basicamente i corsi che riguardano i problemi di madre Earth, i problemi di sanità, i problemi di sanità, i problemi di sanità, i problemi di sanità e i problemi di sanità. Poi, i problemi di sanità, i problemi di sanità, i problemi di sanità e i problemi di sanità. Quindi sono i cinque corsi che già sono pronti, questi sono virtuali su internet. Ma ora, quando torniamo a Colombia, sarà molto intensificato. E Guru Maharaj dice che quando ritorna in Colombia intensificheranno il lavoro molte volte. Queste sono altre università che sono collegate con questo lavoro. E quelle sotto, insomma, sono università che sono connesse con questo lavoro. E poi, insomma, la cosa diventerà ancora più forte. So, go back to OIDA. Quindi ritorna allo... Questo è solo per mostrarvi dove questo è stato studiato. Qui c'è l'OIDA terapia, e quindi ci sono gli istituti, i posti, le strutture nelle quali viene fatta la ricerca. Ci sono in Bulgaria, in Germania... E sono... come si dice... Tradotti specificatamente... Colombia, Brasile, Germania, Messico... Ecuador, Argentina, USA, Chile... E ce ne sono altri. E in definitiva è questo indice che vi collezze. Quindi ci sono i video della OIDA therapy. E qui ci sono i diagrammi. Ci sono i questionari della terapia OIDA. Ci sono i questionari della terapia OIDA. Ci sono i questionari della terapia OIDA. Ci sono le purificazioni. L'arte. 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 L'arte è un grande campo. Puoi danci, puoi cantare, puoi composare... tutto artistico che portare la felicità e la felicità alle persone. E questo è l'arte OIDA. E il festival di Ciaschi è una delle espansioni. E quindi ogni arte che porti positività e felicità alla gente è un campo possibile per la arte dell'OIDA terapia. Ci sono alcuni articoli che vengono venduti. Ci sono le tradizioni mistiche dell'OIDA terapia. L'OIDA Agro significa come nel mondo della fede bisogna avere a che fare con la madre natura. L'OIDA TOUR significa avere giorni della fede per centriari e ritori sacri. E quindi invece i tours sono come fare appunto dei tours di fede e per ritrovare le proprie radici. E per esempio come oggi abbiamo avuto un tour di OIDA terapico qui a Ishodia. Siamo andati a vedere le grotte e la cascata. Abbiamo ripulito l'area. E abbiamo anche cantato mantra ai fiumi sacri. E' una specie di mini esempio di come sono i tour di OIDA terapia. E' una specie di mini esempio di come sono i tour di OIDA terapia. E qui abbiamo anche la... Ecco sono i medici che usano l'OIDA terapia. Abbiamo il materiale didattico per le scuole. Abbiamo la gioia perenne dell'OIDA terapia. E questi sono programmi speciali nei quali potete invitare la gente in una terapia OIDA nel quale faranno delle esperienze che non hanno mai fatto invitare. che nemmeno si immaginano. E' molto difficile spiegarlo adesso. Perché è estesa la cosa. Però sta già funzionando. Poi ci sono gli psicodrammi. Ci sono le pubblicazioni. Ci sono le pubblicazioni. Ci sono le riviste. Questo dovrebbe essere un link alle varie riviste. Cioè libri, giornali e retroni. Cioè riviste retroni. Non esiste lì. Però già stanno... Ok. Then we have OIDA therapy charity. Qui abbiamo la beneficenza dell'OIDA terapia. Because OIDA therapy goes to jail, goes to places to help people. Perché l'OIDA terapia va nelle prigioni, va nei posti dove si aiutano le persone. La gente può fare del volontariato anche per imparare. Then we have OIDA therapy graduations. Ci sono le... What are the different courses you can take and learn about it. Le promozioni. Poi ci sono... Non capire niente. Diplomi. Diplomi, grazie. Then you have the OIDA therapy representatives. I rappresentanti della OIDA therapy. OIDA therapy testimonies. I testimonies. OIDA therapy literature. Then we have the OIDA therapy Facebooks. E poi ci sono i Facebook. Different departments have their own Facebooks to show what they are doing with OIDA therapy. I differenti dipartimenti hanno tutti un Facebook differente per far vedere cosa promuovono. Cosa fanno. And then we have videos of OIDA therapy. Also this is another Facebook. E qui ci sono i video dell'OIDA therapy. Ok, so this gives you basically a short description. description. E quindi questa cosa vi da una breve descrizione di base. And now I request our recently Italian learning director of OIDA therapy, Braupata, that she can give you more instructions. And I have a short appointment to make. A presto. Grazie.